Una proposta di legge per riconoscere le vittime del dovere? Sì, una proposta di legge molto importante che racchiude in realtà tre proposte di legge, una presentata come primo fermatario dal consigliere Marco Ausili, una dalla consigliera Marta Ruggeri e una dal presidente Dino Latini. È un insieme di proposte veramente interessanti, veramente strategiche per questa regione perché vanno a ribadire qual è il concetto, la vicinanza che questa regione ha nei confronti dei soggetti che sono vittime del dovere, quindi un passo importante di riconoscimento sui valori fondanti di questa regione come della nostra nazione, della democrazia, della legalità e quindi questo aiuto va nei confronti delle famiglie, di queste persone, nei confronti di questi soggetti che eventualmente sono rimasti, hanno avuto dei posti invalidanti e va a denotare qual è veramente l'attenzione da parte di questa regione verso queste persone che danno veramente un aiuto e garantiscono i principi di legalità e di sicurezza all'interno della nostra nazione e della nostra regione.